Siamo qui con il mister del Procida, un primo tempo che avete iniziato possiamo dire un po' sottotono con cui il Barano è iniziato subito volendo imporre il suo gioco, poi sono arrivate le due prodezze di Galadeta e è cambiata completamente la partita, nel secondo tempo avete sfiorato anche più volte il 3-0 e poi il 3-1 quindi che giudizio possiamo dare a questa partita? Sicuramente era l'esordio, una temperatura molto alta quindi ci tenevamo a fare bene e ovviamente eravamo anche un po' timorosi di quello che sarebbe stato perché abbiamo fatto ovviamente pochissimi amichevoli così come anche il Barano, era la prima uscita ufficiale ma sono molto contento della prestazione dei ragazzi a prescindere del risultato che fa sempre piacere vincere soprattutto all'esordio ma farlo così con convinzione ci fa piacere, l'inizio si è stato un po' sottotono anche perché il Barano comunque a Novo era tra le sue file giocatori importanti, categorie, c'era Saulino, Conte comunque di Simone là dietro quindi è una squadra attrezzata che penso che dirà la sua nel suo campionato farà un campionato ecreggio quindi siamo andati in vantaggio secondo me con due giocate fatte bene nel 2005 che è ritornato da Foggia che sta con noi, la da Leda che penso che ha dei colpi importanti ma penso che la prestazione sia stata fatta da parte di tutti perché sia in fase di possesso che non possesso tutti quanti si sono sacrificati e ovviamente siamo all'inizio quindi ci sono tante cose da registrare sul 2-0 potevamo gestire un po' la palla invece di andare sempre a voto e quindi poi finire le energie perché ancora è calcio d'agosto quindi le energie non sono ancora tutte però tutto sommato sono molto soddisfatto dell'atteggiamento e della prestazione dei miei ragazzi Quindi vedendo anche questo Procida comunque alla prima partita che comunque fa tante cose buone più che negative alla prima possiamo dire che comunque ci può lasciare ben sperare? Sì, la cosa che ho chiesto ai ragazzi è che noi vogliamo riscattarci un po' da quello che è successo l'anno scorso quindi di partire forte quindi già con l'atteggiamento ci tenevamo a esprimere e far vedere le persone che ci siamo siamo vivi, siamo presenti poi ovviamente ancora manca un qualcosino alla squadra stiamo cercando di completarci in tutti i reparti ma tutto sommato questa sarà l'ossatura e penso che l'atteggiamento è quello giusto dobbiamo continuare ad avere perché la prima è la prima uscita quindi come approccio sì ma c'è tanto da lavorare ovviamente E su che cosa quindi si deve tendere sul lavoro? Cioè che cosa manca per rendere una macchina semi perfetta dove la perfezione non esiste e questo Procida? Sì ma io penso che la cosa che poi si fa avere continuità è la conoscenza dei giocatori noi quest'anno abbiamo preso un portiere nuovo, c'è Lamarra, c'è Minauda, ci sono diversi under che sono nuovi e quindi l'amalgama è quello che poi fa la differenza perché se si conoscono è molto più semplice ci stiamo lavorando ovviamente se andiamo nella parte tattica ripeto nel primo tempo andiamo in vantaggio 2 a 0 invece di continuare a andare in verticale magari potevamo palleggiare un po' di più così come il secondo tempo anche se le caratteristiche della nostra squadra tendono sempre ad andare in avanti però questo significa per noi lavorare conoscenza a livello fisico, a livello tecnico e soprattutto a livello tattico ma questa è la strada giusta, se continuiamo con questa voglia e con questa applicazione penso che ci potremmo togliere belle soddisfazioni Grazie mille Grazie a voi